Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Sì, grazie Sì E' molto presto. 5 minuti. 5 minuti. C'è stato un risultato. E' molto presto. Ucchia è l'ambra. C'è l'ambra? 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 C'è il dopo tiempo aperto! Prend fire. lanciella che fai четly comenta la canra! L'ad Quieta! C'è l'ambra? Não l'argo? Standard해. Vanda è un � mater... ... ... ... ... Bene, anche se è un'ultimo, un'occhia è un'altra cosa. L'occhia è un'occhia che il'altro, non è un'occhia che il nostro corso? Non è un'occhia che ti senti a quello che c'è la tua vita... Ma, non è una cosa... Ma, non è un'occhia che nessuno, non è un'occhia che ci si è un'occhia. Sì 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 Il fatto che il suo giro è il suo giro, ma che si è il giro. L'ho è l'ho più facile, ma che si è il giro. Il giro è il giro? Non è il giro, il giro è il giro. Questo è il giro. Questo è il giro che non mi ha mai parlato. Pagani Ms.2 Sì Sì grazie a tutti ma si è chiaro ora si è ho il ma you i Alla prossima iniziavamo Aggiungo Noel si è riuscita Si dai sanzionati Non c'è nessuno 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 B***h Sì. Sì. E? E? In questo mondo, non è una scuola. Cosa stai. Con un pozzo di miso. Cosa stai? Cosa stai. Cosa stai. Cosa stai. Cosa stai. Cosa stai. Cosa stai. Sc pidpati di. Cosa stai? Cosa stai. Cosa stai. Cosa stai. Cosa stai. Cosa stai. Chi pebante quana bag, qua al un carroazardo. Cosa stai. Si, io ho un'altra truca in un'altra truca, e ho un'altra truca che ho guardato il bale, ma solo l'eve summer ballato. Eve summer ballato? Tu sei che f***ing prison. Non c'è un'altra truca! Si, qualcuno ha un'altra truca. Si, qualcuno ha un'altra truca. C'è questo. Qu'è il genere? Si, per fare un'altra truca? Un'altra truca? da quando cio can ma all in jane a l'e l'e c'è non d'espo ma警察の時から道合いを良くしてたっ 警察だったんすかそうですよ私 a なのでそういう部分で まあ一番合いそうだなと思うんですよ はい 逆にあんまりそうそうもね内部事情わかん ないですもんねほかギャングですね 俺はあれですもん あの 野郎屋はもう少人数を方がたのイメージをですね 3人とか 何とかのイメージマジでだと客船でロケラン打ってるイメージ じゃああああああああああ 船とかいうやがましいもん スタッファイトブス スタッファイトブス スタッファイン professor 俺 ASH だった 通常だっ 5 AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH I'M A FUCKING GOD This is so fucking stupid Jemmo Alright sir, this is the police I'm gonna do it quick and just get cars and help you guys Ok just do it as well This is the police Did he do that? Nah he got it he broke it STILL A FUCKING GOD I'M STILL A FUCKING GOD I'M STILL A GOD That's crazy Ah they're getting out they're getting out AHHH PUT THAT GUY IN GUSS Non lo so! Non lo so! 95! 95! Sì, non è vero. Oh, il cauto. Oh, c'è il cauto. Oh, il c'è il cauto. Il c'è il cauto. Si. Non è vero. Oh, il c'è il cauto. Oh, il c'è il cauto. Sì, è vero. Sì Shanna is a friend of mine, she's been on Opixel since like 1.5, even prior to me being on Opixel, she was on Opixel, I'm pretty sure even before Cyr was on Opixel, she was on Opixel for a long time, right? And she has a sick parent that she takes care of, and her parent is iller now, and she lost her job, so she can't afford housing, and she can't afford to take care of her mom, and she's currently living out of a car right now, and sleeping out in the car with her mother, who's mentally ill. So I am having this dream, essentially, to try to get to her GoFundMe goal, to pay for housing fees for the next couple of months, then hopefully she gets a job. Ey tu1, ey! Eey, mach deus aus! ich höre auf meine Mutter! ey, du Bastard, du Bastard! Du Bastard, du Bastard! Hör doch mal auf zu blasen! hör doch mal auf zu blasen! è assolutamente